Ciao ragazzi, eccomi qua ancora una volta con voi. Bene, è un po' che non faccio nessun video, è stato un pedo un po' complicato, però oggi vi porto a vedere come ci si va in Argentina. Sto almeno tentando, perché evidentemente ci sarà un bel po' di gente. Adesso vi racconto tutto il processo, andiamo! Bene, intanto vi racconto perché non sono apparso nelle reti un po' di più, però su YouTube non tanto. Numero uno, primo perché ho avuto un aumento del lavoro, cioè sto lavorando un po' di più rispetto al solito e questa è una cosa che ritengo anche positiva, che il lavoro non viene mai male e poi perché mi sono traslocato a un altro posto, a un'altra provincia. Non sono più a Buenos Aires da circa una decina di giorni, basicamente. Qui la vita è molto diversa, è un'altra cosa. C'è più spazio verde, c'è di tutto. È un cambio che ho cercato da un bel po' di tempo, però diciamo che non si è potuto concretare prima di adesso per la questione delle restrizioni, perché già volevo trasferirmi da prima, perché la vita di Buenos Aires è molto stressante. L'esperienza va bene, però era un ciclo che, diciamo, doveva chiudersi in una certa maniera e non era più il caso di continuare. Attraversiamo... Aspetta, aspettate... Poi mi uccidono il tema del vaccino. A Capitale è un po' diverso. Praticamente lì vanno per fasce d'età, perché ci sono molte più persone, mentre qui in provincia vanno per età. Sì, vanno per età, però di anno in anno, ogni giorno ci sono dosi disponibili. Allora uno va, senza appuntamento, senza niente, si presenta e fa la fila e documento. Con il documento ti vaccinano in teoria. Va, anche senza in teoria, ti vaccinano se uno ha i requisiti, documento regolare, domicilio. Io il domicilio l'ho fatto in questi giorni fa, l'ho cambiato e dovrei essere già ok. Quindi vediamo, vi faccio vedere com'è il processo e come va, cosa mi metteranno di vaccino e se mi provoca anche degli effetti. Nel posto in cui mi trovo adesso, nella città, è in mezzo a una valle. Infatti si chiama A-A-A-A della valle. Cercate di indovinare in che posto sono. Qui c'è meno stress, c'è più tranquillità. E anche se vi sembrerà una cosa assurda, qui posso vedere il cielo. Non dico cazzate, mi sembra anche una cosa ovvia per uno che vive, per uno che vive diciamo in una città normale. Ma a Buenos Aires, quando studi a Buenos Aires, in centro e in un appartamento piccolo, perché eravamo in un posto piccolino, e anche a piano terra, altrettutto, non vedevamo tanto il cielo, quasi non si vedeva appena percepivamo il sole. Tipo sei, sette anni che non potevamo svegliarci con la luce del sole. E questo è bellissimo. Forse sono cose alquanto semplici, da un certo punto di vista, però alla fine sono quelle che contano, almeno per come la penso io. Perché tipo per vedere il cielo, dovevamo andare un po' sulla strada principale della città, che era lì vicino, però non era la stessa cosa che alzarsi, non so, vedere un prato, delle piante, più un tranquillità, ok? È un'altra sensazione, già ho potuto togliere il chip anti-ladro, diciamo che uno deve mettere a Buenos Aires, perché bisogna stare attenti, per una città grande, in tutte le metropoli capita lo stesso, non c'entra a Buenos Aires, Milano, Roma, è sempre la stessa insalata, diciamo. È sempre lo stesso, è in sicurezza. Per me non vale la pena vivere in una città grande, anche perché lavorativamente, anche qui, faccio lo stesso lavoro di prima, solo che vivo più tranquillo. Merda. Poi, altre differenze che ho notato nel vivere qui, dopo una settimana, a parte la vita tranquilla, che si usano due mascherine, come potete vedere. Sembra che chi governa questa provincia ha la maggior parte di farmacie e cliniche, e però dai, non commentiamo, non commento altro, forse per quello che vuole questo, così vende di più, come un gran imprenditore deve fare. Quasi non mi lasciano passare perché non avevo il documento fisico che mostrava che il mio domicilio da adesso va a Buenos Aires. L'ho già cambiato, però il documento tarda come circa 30-40 giorni, per quello che non ero sicuro. Allora ho portato solo il foglio e il documento fisico no, però avevo la foto del documento fisico, quindi era sufficiente. Però senza indirizzo e non è che chiedono tante cose, però basta che sia tutto in regola. Bene ragazzi, sono già stato vaccinato, mi ho certificato, e tra un po' torno a casa e vi spiego com'è andato tutto quanto. Bene ragazzi, dal momento delle immagini a oggi è passata circa una settimana. Domani giusto è giovedì e praticamente si compie una settimana di vaccinazione. È stato un po' difficile per me registrare lavoro, tempo e cose varie. Come vi dicevo mi sono trasferito in un altro posto, che è la provincia di Catamarca. Sono nella capitale, si chiama San Fernando del Vasce. La città va più o meno, diciamo, è un po' trafficata, un po' incasinata, però per dirvi ci sono dei bei posti, come il di che di... e dei bei posti, come indica, del Comeal. In quanto al discorso vaccino, mi hanno messo l'AstraZeneca, non ho avuto sintomi, sono stati gentilissimi, sono stati bravissimi durante tutto il processo. Ho dovuto consegnare solo il mio documento, che in realtà non è proprio il documento, perché non avevo quello fisico, se no in digitale. Avevo paura in realtà che mi chiedessero il mio indirizzo. E io avevo fatto il cambio di domicilio da Buenos Aires a Catamarca. L'avevo già fatto, avevo la carta e ho presentato quella, perché magari forse mi potevano dire, ah ma tu sei, non hai ancora il tramite, non hai fatto ancora, completato la pratica per il cambio dell'indirizzo, tutte queste cose qui, sono andato solo con quello e avevo la foto, praticamente, del documento, che c'è anche la possibilità di avere il documento digitale, con una app. Io avevo la foto, praticamente, lo screenshot del documento, parte davanti, senza l'indirizzo dietro, e mi hanno detto solo quello, ok, va bene, basta, con questo indirizzo nuovo e con il documento che certifica che tu sei residente dell'Argentina, va bene, tutto ok. Allora mi hanno fatto passare in, praticamente, in questa sala, in questa prima sala d'attesa, ero il secondo, poi siamo passati, una volta che sono uscite delle persone, siamo passati a un'altra sala e lì, praticamente, abbiamo atteso che potessimo passare direttamente a dove ci avrebbero vaccinato. E questo è stato il processo, e ci hanno dato un po' delle avvertenze, che se sentivamo dei sintomi, delle cose, di prendere un paracetamolo da un grammo, circa, o un altro, due, da 300 milligrammi, una cosa del genere, adesso non so bene. Lo stesso che dicono da tutte le parti, una tachipirina, una cosa così, ok, non so se la tachipirina da mille, no, non ne ho idea. Io, sinceramente, non mi sono sentito male, non ho avuto praticamente niente, sono un po' di fastidio alla testa, però dopo circa otto ore dall'iniezione del vaccino, ho fatto nel braccio sinistro, quello che non uso praticamente per lavorare, poi ho avuto male alle braccio, naturalmente, per vari giorni, e adesso, se devo dire la verità, mi dà ancora un po' fastidio il braccio. Io sono di avere contratture, fastidi, tutte queste cose qua. Non ho avuto altro, sono stato fortunato, ho avuto un po' di sonno, anche leggero, però neanche tanto. Però il giorno dopo, basta, fine. Questi sono stati i miei sintomi. Adesso un po' di male al braccio, dopo una settimana circa, e gli altri, il resto dei sintomi, se non sono andati via, ma tipo dopo uno, due giorni. Questi sono stati più o meno i tempi. Che altro? Che dirvi? Qua sono qui da 22, dal 22, 23, no, 22, 22 giugno. Dal 22 giugno, oggi siamo il 6 luglio, 6 o 7 luglio, già non so come sono i giorni. Come potete capire, sono in un altro posto, più tranquillo, più rilassato, e vorrei farvelo anche, vorrei farlo anche a vedere. Non ho filmato molto, perché diciamo che ho cambiato posto, però non ho cambiato i tempi, e ultimamente stavo anche lavorando tanto, e continuo a lavorare tanto. Niente, e con questo concludo, non voglio trattenervi oltre, e tranquilli, che non sono sparito, è solo poco tempo. Bene, e niente, se notate la voce un po' strana, è perché ieri ho creato i rigori. Ok, e dai che forza, Forza Italia, e dai che... Marca, vediamo, speriamo dai, speriamo bene, e dai, ci vediamo alla prossima, da Catamarca, Argentina. Ciao ragazzi, ciao!